L'idea di questo progetto era far suonare il magazzino di Amazon con uno spettacolo multimediale di musica dal vivo. Quindi quello che abbiamo pensato è stato campionare i suoni di Amazon e i video dei vari macchinari per riproporli come strumenti musicali videomappati su una struttura di scatoloni. Quest'installazione nasce, cresce e si sviluppa completamente in Amazon. Ci siamo accorti che questo magazzino ha una nota, la nota in questo caso è il sol. Per cui abbiamo fatto una canzone in sol con gli strumenti che sono gli strumenti di Amazon, cioè i scanner per i codici e quant'altro. Dopo aver ascoltato questi suoni, mi è venuta subito voglia di provare a unire questi ritmi al suono del mio sassofono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.